musica 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 oggi combattono per il baseball ma perchè? povero Anja non c'è tra un cavolo ma era un figlio di Hunter fare no, non avevi furia che poi ti stuprano gli Hunter si, guarda, guarda, guarda guarda, guarda guarda, guarda, guarda mi sa che sei incantato ah no chi è che ha preso la macchina? è quello è volato la macchina aiuto, che altro testa gente no Hunter mi stupro l'Hunter mi stupro l'Hunter mi stupro l'Hunter è nero qua vai vai se ce la fa killarmi ah ah vedi imbecille io ero uno di vita grazie Gesuuu ah beh ci stavano a salvarvi la vita no si fa cosi non c'ho due superiore non c'ho due superiore ce l'aveva lui cazzo accidente a te no mi stupro l'Hunter che culo grande mi stupro l'Hunter è arrivato l'Hunter e l'ha sfrutturato tre Hunter tre Hunter basta li odio ma si vede che gli Hunter ti amano a questo punto cerco un affetto ho ancora quest'arma e guarda che arma sciare? no devo prendere la mia seconda pistolina mongola ragazzi da tirare una scureggia ah 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 comunque il mirino sulla doppetta non serve un cazzo ve lo dico subito che detto? il mirino nella doppetta non serve un cazzo si come ho messo io il mirino a lancio granate ma almeno è più preciso a lancio granate il mirino è più utile sulla carta a 46 il mirino è più utile io la devo restituire in più perché ve lo dico in culo giugna cioè il solito è scuro qualche solito che fai? lo prendi in culo? da solo si perchè qui bisogna arrivare in cima del ritorno ah ma è l'ultima del ritorno senza saperlo ok io alla fine lascio e lascio altri che vogliono sempre bravo quindi noi siamo gli stronzi di turno quanto fa il gioco di squadra? minchia una cosa quando si attiva mi avviso eh aspetta forse è entrato un botto di zombie oh lancio una bine ah ma è l'unico stronzo rimasto fuori oh lancio una bine aiuta 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 fai scisa c'è un vibratore prendilo oh ragazzi no ma no mi ha preso ma io mi ha preso muori muori no c'è l'M40 lì che è aspetta aspettate non liberatelo ok va niente perchè tu ti la giugno l'izome quella ok l'hai tirata a caso quella granata dai due stronzi erano spravvissuti erano sono morti oh yeah eh no eh no che cazzo qualche stronzi se noi siamo già fuori ma guarda come scappa oh aspettate che mi cura aspettate che mi cura aspettate che mi cura oh che cazzo che cazzo che cazzo che cazzo dovrei curare anch'io perché è noto no te sei al giallo che ti curi a fa già ci devi cura quando al giallo è 28 28 sono tipo al limite ti dovresti curare quando vedi il bianco e nero però aiuto ma ciao via oh via 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 Aia 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 farinati che non si accorge dello zombie in bianco oh vai mi sono trancato le gambettine oh che è tutta sta gente qua sta puttana di spitter levati no ante mi stupra ma sei sicuro che è normale non sia qualche difficoltà più in su sta togliando troppo la spitter minchia figli di puttana a me mi è rimasta solamente l'adrenalina da usare all'ultimo dove sei? e non riesco a prendere eccola 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 ecco bravi fatemi strada voi e vabbè una porca picca scusa a me mi denunciano per copyright questa volta non carichiamo noi buon terpiazio ti ha spitter ma quant'è cazzo è davanti mi stai chiaffettando dal video aiuto 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 dietro dietro l'avete preso il defibrillatore io non ho munizioni quindi o palle io non ho niente dai dai tira 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 no che palle non ho più vita alias siamo nelle tue mani se avessi visto niente ma no sono un po' morto ma io non ho punizioni l'avete preso il defibrillatore di prima no vedo in bianco e nero sono nella merda ragazzi mi sa che ragazzi mi sa che è arrivata la mia fine si ma oh ma vengono tutti questi zombie stronzi e io come lo batto il tank a mani nude c'è anche il medico da qualche parte ho finito le munizioni mi sto allargando oh c'è un kit medico c'è un kit medico c'è un kit medico c'è un kit medico no ma mi sentivo devo avalzare per farlo arrivare guarda il caso eeeh carmine ammazza tutti io intanto mi cura e dovevo curare aspetta ci sta un altro kit medico se vi interessa no c'è un kit medico uuuuh mori 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 puttana oh cazzo corri oh cazzo oh cazzo non muore scusate non voglio morire non voglio morire giovane no mi ti ha volato lo stronzo ma non fa il culo oh mi è travolato non il culo mi è giusto ma è morto che culo è morto attento sta arrivando il tank ma ma è morto il tank è morto è morto una piattina ci sono i tuoi pugnetti che mi bastavano per ammazzarmi allora ah li ascurati oh cazzo il charger ma no ma che palle stupato allora oh ci sono un'altra volta che palle oh e no hunter 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 mi piace muoviamoci muoviamoci siamo troppo esposti si dobbiamo muoverci ma che palle tu da terra ragazzi incontriamo l'uomo ma che palle a terra ti sembra momento se sei in bianco e nero ti killo e ti riano eh si oh l'ho ucciso l'ho fatto per io un'altra volta la splitter che palle ma ha rotto oh io non la vedo nemmeno perché sono in bianco e nero maia l'ho vista io ma non la vedo cazzo eh l'ho vista io l'ho ucciso maia stanno indietro maia sto tornando sto cercando di deciderti il charger ma c'è un boomer dietro eccolo lì porca puttana c'è anche un hunter eh porca puttana è già scoppiato ma non ci capisco oh cazzolante ma 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 che cazzo stiamo facendo non lo so ci sta anche il gioca ci sta anche il gioca ci sta anche il gioca 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 non muore non muore guardalo oh ti ha defibrato ci sono defibrato la cosa migliore da oddio l'ha lisciato ma ancora ma basta metti i coglioni basta chi è che mi sta stupronando corriamo ora come cosa da fare da qui grazie grazie carmine grazie porca do cazzo dobbiamo correre dobbiamo correre dobbiamo correre dobbiamo correre che cazzo è che noi eravamo qui sotto ma vai vabbè vai finita io direi che è un po' finita no no ma ci sta una safe room almeno oh cazzo un altro tank quanti cazzo ce ne sono c'è un altro tank c'è un altro oh ci sta ci sta smoker dietro charger e smoker dietro c'è anche lo smoker siamo alla frutta siamo alla frutta siamo alla frutta che cazzo c'è un crud che cazzo fai ok ci siamo fatti stai bruciando vivi vivi una sega di vita ci siamo no 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 non voglio ci siamo fatti alla griglia che falle che falle è possibile che bisogna fare ogni volta le campagne due volte eh ma se c'è qualcuno chi è che ha quel furbo che ha tirato non sono vivo quel furbo non sono io per non dire altro che inizia sempre con la F eh allora facciamo facciamo una cosa dato che non voglio rifare anche la prossima no grazie ma muore se sì allora vediamo cosa offre la ditta via andiamo di a capo qui mi stanno massacrando al telefono chi è oh ma scusa abbiatevi se partite Fahrenheit accidente al cane ah adesso venite un bloccante ancora vai entra 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 Fahrenheit mi spiace ho lasciato uno zombie solo da fuori eh poverino ora piance ci sono perché non lo so sì sono qua nell'angolo qui dopo sono io aspetta qui dopo sono io ti ho che oh non so qui dopo sono io dentro il tavolino guardatemi aspetta io racconto un paio di munizioni perché sennò qui si via la testa ma namo ma porca oh allora andiamo 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 non c'è nessuno non andiamo non c'è nessuno eccolo lì che ha il furbo oh vedete che state combini meno male che voi ho detto andiamo ora qua c'è nessuno oh liscio non c'è nessuno attento ho saltato stiamo stiamo cazzeggiando troppo comunque oh non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno o camperi o rushi no non devi ne fare non c'è cerca di camper vicino a noi almeno se vuoi camperare io ho preso l'hunter che mi abbracciava fare teni una mano o vuoi rimucidati ok allora venga davanti no spiego sì vai ce n'è ancora un po' oh ti ha boomerato aspetta che tiro una pipe bomb eccolo lì il furbo di turno che lancia la moto quando non serve ora tocca aspettare mezz'ora prima che si spenga il falò ma che è tutti sti zombie tutti al fiume che è andato a pescare il sabato sera attento Alex non dubbio dietro morto charger mi muovi ecco guardalo scendi forte aiuto mi mi oh oh no boomeru eh che cazzo tanto ci sono già poi i zombie vero dove siete tutti io sono in mezzo gli zombie io sono tutti full tank dì ma stanno scendati pure negli altri eh quelli sono eh le famose scimmie zombie scusa Alice abbiamo l'accettata della schiena cerchiamo di scendere giù ma dove è che scendono che appaiono tutta sta gente qua eh gli zombie delle montagne eh i montanari ma stiamo in mezzo andone su di scendere beh dove scendere allora fate una cosa me è sumo no 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 dai non più spazio vieni va bene era la tutta dell'epetatica sparate le cartina chi è che è rimasto in su oh e non ci arrivo tirateci su veloce 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 prima che rimatta eccolo lì allora faccio una cosa oh tank do cazzo corri io 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 vedo il bianca e nero io vedo il bianca si è fatto una stronzata però che palle non muore non muore è morto è morto è morto è morto è morto è morto troppa gente troppa gente non ci capisco più un cazzo aiuto allora arrivo con calma si fa tutto no 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 arrivo a qualcun altro no no mi sa volevi anche il papà per chi arrivare se l'ho capito no se arriva il papà si no smoker muoviamoci muoviamoci basta muoviamoci mi sono tolto il cazzo mi sono curato ora sono già il rosso io non ho un cazzo di vita eh ma voglio dire piglio ragazzi c'è un gioco dietro c'avete un gioco devo correre devo correre avete un gioco dietro ora non ho più ok basta scusate ora non ne avete finito non è la mia protezione oddio aspettatemi allora prendetevi voi le morto che io sicuramente schiacterò prima intanto devo arrivare vivo da voi se magari mi coprite sa com'è ah scusa scusa se te raggi un phone smoker c'è lo smoker con ok giacchie prendete la roba prendete con camera eh si ma almeno aspetta è già partito da quell'altro porco velenoso merda con cui mi rialzi non ci sta capendo un cazzo grande non ci sta capendo più niente con cui mi rialzi mi si tira una pipe chi è che dai levatevi dal cazzo zombie di merda non so dove sei dai vai 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 il gioco è sicuramente non è finita questa cosa dai eh non posso dai sono morto va a mettere qualcuno c'è una pipe no l'ho già usata ma dov'è che si deve andare vai segui la via segui la via vai là vai là eh mi sto mi 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 vai 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 qualcuno che entra nel fatemi uuu non ci capisco non ci capisco un cazzo sono troppi no levatevi dal uuu che c'è lì vai Alex se provo ad entrare ma aglias mi sa che ecco lo stronzo come è passato hai scappato lo stronzo lui tranquillamente è tutto disciplinato l'epicotero completamente morto ma ce l'ha fatta eh sa nè che sa nè che gli ha fatto da un po' l'umpa per le tanc no è un po' l'umpa è un po' l'umpa è un po' l'umpa comunque non si può uno non si può uno che se la scanna l'altro che parla e non guarda quello che fa l'altro che tira le malete avvocate se quello che parli non sai quello che fai ah la scanna è un po' l'umpa è un po' l'umpa è un po' l'umpa fare un'alte che boh non ci avrà le palle per gli hunter li attira tutti non tira hunter hunter attira 304 io sono il figlio degli hunter che palle è ancora che gli hunter oh ragazzi aspetta 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 io non ho mai visto non ho mai visto tutti i titoli di coda oggi vediamola nessuno ha maggiorito i compagni allora io ho la posizione più alta di tutti quel più la testa sono stati feriti durante la relazione sono stati feriti durante la relazione di questo film andate a comprare la mia di quella 5 euro a testa comunque quindi 40 no 20 20 euro per questo film vabbè chiudiamo qui questa puntata allora di 40 e fredda chiudiamo qui 40 e fredda ciao ciao e quindi vi si registra la prossima ciao 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 Grazie a tutti